Giorgio Di Ritti Giorgio Di Ritti forse è un uomo che è inciampato nella voglia di raccontare e nei tanti modi di raccontare a un certo punto ha incontrato il cinema e ha visto che era un circo magico dove c'erano tante persone che riunendosi riuscivano a raccontare delle storie e quindi si è un po' innamorato di questa cosa e nel tempo con fatica ha seguito da un lato questa affascinazione cercando però di far sì che fosse un'occasione per raccontare cose che mi sembravano importanti per il mondo per la società, per l'uomo senza presunzione di essere profeta ma magari con la volontà di essere specchio Io ho visto nei tre film più noti mi colpisce il fatto che siano in modi diversi trattando temi diversi tutti i mondi altri rispetto a quelli rappresentati normalmente dai media o che siano ambientati nel passato, per esempio la strage di Marzabotto o che siano su territori abbandonati o che siano addirittura una ricerca spirituale questo è perché cosa ti spinge a raccontare questo tipo di mondi? ti è mai venuta voglia di raccontare la città? mi è venuta anche voglia però credo che l'andare in situazioni altre è un modo per far sì che lo specchio ci racconti meglio quindi lo staccarsi dalla dimensione della quotidianità ti aiuta ad avere uno sguardo più riflessivo a portarti in una dimensione in cui poi il pensiero comincia a camminare sento un po' la necessità di uscire dal mondo tra virgolette della comunicazione che i media ci danno di offrire la possibilità di andare in uno sguardo diverso credo che una delle cose forti che anche ritorna nei film è il senso di comunità l'importanza della comunità, della socialità silenzio è un momento prezioso oggi non credo che si debba per forza andare in convento a isolarsi però penso che nel rapporto generale con una società che tutti i giorni ci bombarda di messaggi promozionali pubblicità, di suoni, di rumori eccetera ritrovare il momento del silenzio vuol dire anche ritrovare sovente il momento del pensiero peraltro non è mai un silenzio come dire assoluto spesso è un silenzio che fa parlare altro cioè fa parlare l'immagine, fa parlare anche il suono cioè nei miei film c'è una grande attenzione al rapporto con il suono perché poi nella vita anche questo è una componente e questo aiuta a far sì che la vita non si consumi ma si partecipi sovente il ritmo, le cose da fare eccetera sono tali da fastighi di giorni si susseguono consumandosi le relazioni affettive delle famiglie saltano per aria spesso per quello e non c'è il tempo naturale del silenzio dello sguardo, del rapporto, della passeggiata se ho letto bene dicevi che per te il cinema deve essere in qualche modo permeato di contenuto non tutto, io credo che comunque il cinema può essere anche intrattenimento ma penso che se dal cinema togliamo anche quella parte che è capacità di riflessione critica o propositiva o comunque di divisione eccetera perdiamo qualcosa di significativo cioè penso che l'uomo appunto ha naturalmente il tempo dello studio il tempo della ricerca, il tempo del sogno, il tempo del divertimento cioè tutti questi elementi fanno parte della componente umana quello che un po' è assurdo in certi momenti è che c'è una grande spinta consumistica che porta a voler che tutto sia solo, tra virgolette, o divertente o consumistico e quindi si perde qualcosa di profondo Come vivi il rapporto tra natura e cultura? Nel senso che dalle tue opere spesso sembra un po' che la cultura e la tecnologia in qualche modo possa essere qualcosa di negativo però allo stesso tempo tu racconti quella tecnologia, no? ovviamente queste storie come vivi questa contrapposizione che c'è? Credo fortemente che il rapporto natura sia cultura e credo fortemente che la tecnologia sia una delle cose più interessanti oggi per riuscire a rapportarsi con la natura in un modo più rispettoso e allo stesso tempo utile è paradossale che oggi nell'ambito del mondo agricolo le scoperte che ci sono rendono possibili coltivazioni con molta meno fatica ma questo non vuol dire, ahimè, far sì che chi lavora appunto di questo mestiere abbia un ritorno economico equilibrato e utile a sopravvivere purtroppo in generale poi c'è il gioco del mercato che trasforma i vantaggi in schiacciamento per quello che riguarda il prezzo anche se le iniziative singole, le piccole realtà, le cooperative eccetera che si concretizzano su lavori di progetti specifici spesso hanno risultati molto interessanti la reazione vera credo che sia culturale e culturale nel senso che ci deve essere la capacità della gente di arrivare a capire che vale la pena fare un po' di fatica andare al mercatino orionale o meglio andare nei mercatini dove ci sono i contenini a chilometro zero cioè credo che quella strada sia quella giusta ed è importante fare questo piccolo sforzo perché innanzitutto si tutela il territorio in cui viviamo attorno a noi ma al di là di ciò c'è una grande possibilità di mangiare della roba sana e noi non possiamo lamentarci delle nostre malattie del futuro dei tumori, delle cose di questo tipo se ce ne freghiamo, se siamo totalmente assenti a un'attenzione che potremmo avere vediamo tutti questi incontri chiedendo alle persone che incontrano che cos'è per te l'Italia che cambia da dove l'Italia che cambia non mi riferisco al nostro progetto ma al concetto se puoi dirmi l'Italia che cambia per me è quello come tu l'Italia che cambia per me è quella che crede che il cambiamento non è economico solo è un cambiamento di tempo, di rapporto con il tempo di riappropriazione di un tempo naturale delle cose della riappropriazione appunto della domenica con la gita la dico io adesso, è un esempio ovviamente banale però credo che l'Italia che cambia è quella che riscopre il gusto naturale e vero delle cose che non si fa condizionare dai messaggi pubblicitari e che non cerca lo scoop, lo scandalistico eccetera ma ritrova il gusto vero dell'aeroporto per la vita quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi